Quinta gara consecutiva senza vittorie per il team Altamura che non va oltre l'1-1 nell'importante sfida in chiave playoff contro il Nardò. La squadra di Monticciolo va sotto nella prima frazione dopo un clamoroso infortunio di Donini ed evita la sconfitta nel finale grazie alla testa di Bozzi. Nella prima frazione partono meglio i padroni di casa con il sinistro di Lorenzo e la pronta risposta di Milli. Al quindicesimo Altamura ancora pericoloso sugli sviluppi di una punizione e il tocco poco preciso di Gambuzza. Due minuti più tardi arriva l'incredibile vantaggio Neretino. Potenza corre sull'audi sinistra e mette al centro Donini in precario equilibrio termina in rete assieme alla sfera. Nardò in vantaggio e duro colpo per i biancorossi che al ventesimo rischiano di capitolare nuovamente con il diagonale di Caputo. Questa volta Donini risponde presente ed evita lo 0-2. La squadra di Monticciolo reagisce. Dopo un rimpallo in aria la sfera finisce sui piedi di Lorusso che calcia da posizione ravvicinata. Milli si distende e respinge. L'occasione più clamorosa per il pari murgiano capita sui piedi di Spano che parte dalla tre quarti. Salta i difensori anche il portiere Neretino ma la sua conclusione a botta sicura viene respinta da Romeo. Si va a riposo con il Nardò avanti di una rete. Nella ripresa l'Altamura produce il massimo sforzo per riaguantare il match. Ci prova Lorenzo con una conclusione da posizione defilata. Blocca Milli. Poi il turno di Musa dal limite. Milli con qualche difficoltà afferra nuovamente la sfera. Altamura che concede anche spazi in difesa. Torno sprova il tiro a giro ma la mira è da dimenticare. La gara si accende. A farne le spese è proprio il tecnico Monticciolo espulso dal direttore di gara. E a sedio Altamura e all'ottantacinquesimo i murgiani trovano il pareggio. Cross dalla sinistra di Casiello e perfetto colpo di testa di Bozzi che mette alle spalle di Milli. Nel finale non accade praticamente più nulla. Finisce 1-1 la sfida del D'Angelo. Un pareggio che non accontenta nessuno ma che tiene vivissima la lotta playoff. Altamura che da calendario mercoledì dovrebbe affrontare la Puteolana ma probabilmente la sfida sarà rinviata per diversi casi covid nel team campano mentre il Nardò sempre mercoledì affronterà in trasferta il Gravina.